Ed eccoci qua per queste nuove puntate di Terra Amara. In questo video scopriremo ciò che vedremo nelle puntate che vanno dal 23 fino al 25 di aprile. Il fatto che ci colpirà di più in queste puntate sarà che entrambe le donne, sia Zulela sia Mujigan, per uno strano caso, partoriranno proprio nello stesso istante, benché una delle due non fosse ancora arrivata a termine. Ma purtroppo per uno dei due neonati si presenteranno problemi enormi ed anzi si penserà addirittura che non riuscirà proprio a farcela e quindi sarà in pericolo di vita. Nella puntata di domenica si crea un po' di allarme quando vedremo che Mujigan, vedendo che il piccolo Adam si è messo in una situazione pericolosa, mettendo un sasso in bocca. Allora lei corre verso di lui e gli fa aprire forzatamente la bocca, prova a togliere quell'oggetto dalla bocca del bambino, che senza dubbio se fosse stato ingerito lo avrebbe soffocato. Ma proprio mentre fa questa operazione Zulela esce per guardare appunto il bimbo e vede questa donna china sul suo bambino che sta facendo questa azione molto forte e pensa che voglia fare del male al suo bimbo. Corre verso di loro e gli strappa Adam dalle mani e la insulta pesantemente. Mujigan a quel momento cerca di spiegare che stesse facendo lei, ma Zulela non la sconta proprio tanto che si è spaventata. E a quel punto Mujigan le dà il sasso che tiene ancora in mano e se ne va. Immediatamente Zulela si rende conto che ha sbagliato e decide di andare da Mujigan a chiederle scusa. Ma Mujigan non si dimostra per nulla cortese nei suoi confronti e non accetta le sue scuse. Con parole piene di brutalità arriva addirittura a farle capire che sa chi è il padre di Adam. Poi le chiede di andarsene. Dopo questo confronto Zulela, mossa da un momento di impulsività, decide di chiamare Ilmaz, per cui ha bisogno assoluto di parlargli, il quale al suo richiamo risponde immediatamente. Ma le parole pesantissime che si sono scambiate Zulela e Mujigan di certo non hanno fatto bene nemmeno a Mujigan. E infatti, dopo questa forte arrabbiatura, inizia a sanguinare in maniera intensa ed inizia a sentire i dolori del travaglio, benché manchi ancora molto tempo. A quel punto, visto che è sola in casa e sta iniziando a partorire, chiama suo marito Ilmaz, che però non risponde al telefono. Spaventatissima, decide di ricarsi da sola in ospedale e quindi dovrà per forza guidare da sola verso l'ospedale, malgrado i fortissimi dolori, pensando anche di non riuscire ad arrivare in tempo per salvare il suo bambino. Nel frattempo, Ilmaz e Zulela si sono incantrati sulla riva del fiume, proprio per parlare della situazione sgradevole che si era venuta a creare poco prima in villa. E Zulela chiede ad Ilmaz se può intervenire per aiutarla a calmare le acque fra di loro e gestire le reazioni aggressive che hanno ai suoi confronti. Ma proprio, mentre stanno dialogando in maniera serena, improvvisamente Zulela si piega su se stessa dal dolore e capisce subito che sono dolori dovuti alle contrazioni del travaglio. Pensa che un attimo rallentano, ma poi non è così. Diventano sempre più intense e anche ravvicinate. A questo punto chiede a Ilmaz di portarla all'ospedale di Corsa. In ospedale, intanto, la situazione di Mujigan diventa sempre più critica. Il parto si presenta con non poche difficoltà, fino al punto di arrivare a fare una scelta per i medici se salvare la madre o il bambino. E per prendere questa decisione così importante e pesantissima devono per forza trovare Ilmaz, che è il padre, e sarà lui a dire quale sarà la decisione. Ma Ilmaz non si trova da nessuna parte. Poi, improvvisamente, la situazione di Mujigan diventa pericolosissima, con la possibilità, che se non si interviene subito, di perdere entrambi, ed anzi, arrivare a sfiorare la morte. A quel punto è Sabatin che dovrà prendere assolutamente una decisione con la quale si gioca il destino di entrambe le vite. Intanto Ilmaz sta correndo verso l'ospedale con Zulela, per farla partorire. E proprio mentre la appoggiano sulla barella, Ilmaz vede che Mujigan è seduta su una sedia a rotella e spinta da un'infermiera, e va verso la sala operatoria. Lei lo guarda con odio profondo, e lui, chiedendo informazioni a Sabatin, rimane sconvolto da ciò che gli sta dicendo Sabatin, e cioè che Mujigan sta partorendo prematuramente, con rischio di vita per entrambi. Mujigan, vedendoli arrivare insieme, viene pervasa da un sentimento di gelosia che la consuma. Ilmaz lascia immediatamente sola Zulela, e si avvicina e corre verso Mujigan. E lei gli dice in maniera molto dura che lui non può proprio entrare nella sua stanza, e da adesso in poi deve rimanere lontano da lei. Ilmaz cerca di spiegarle che è stato un caso, nonostante i tentativi di spiegarsi, Mujigan è irrimovibile, e si rifiuta categoricamente di averlo al suo fianco. Mujigan e Zulela si trovano entrambe in sala parto e nello stesso momento, e stanno per dare alla luce entrambi il loro bimbo, quasi contemporaneamente. Unkar ed Emir ricevono una chiamata dall'ospedale che le informa che Zulela sta partorendo, e da quel punto salgono in auto di corsa e si recano immediatamente in ospedale. E mentre stanno entrando, si incontrano con Fecheli, che anche lui è stato allertato dall'ospedale per la situazione di sua nuora, ed anche lui è corso velocemente all'ospedale. Una delle infermiere si premura di informare de Emir che sua moglie Zulela è stata accompagnata in ospedale da Ilmaz, e la cosa già gli dà molto fastidio. Ma poi vediamo che i due uomini si trovano faccia a faccia, in ansia, di fronte alla porta della sala. De Emir però non sa che c'è anche Musican lì dentro. E allora aggredisce Ilmaz, urlandogli, ma chi ti credi di essere per aspettare mia moglie fuori dalla sala parto? E si mettono a litigare e a discutere, ma immediatamente interviene Fecheli, che gli racconta della difficile situazione che sta sopportando Musican dentro quella stanza, mentre l'accaia cerca di spiegare ad Emir che non poteva certo lasciare Zulela da sola in mezzo al bosco e in quelle condizioni. Come al solito, Fecheli cerca di calmare gli animi e cerca di fargli capire che le loro mogli, in questo momento, stanno vivendo momenti molto pesanti e difficili anche, per mettere al mondo i loro figli. Demir e Ilmaz sono tutti in preda all'ansia ed anche alla paura che possa succedere qualche cosa di non bello ed attendono dietro quella porta con trepidazione di vedere i loro piccolini uscire. Poi improvvisamente esce un'infermiera che tiene in mano un fagottino e lo mette fra le braccia di Demir dicendole che è una bellissima bambina e come è ovvio che sia, la sua felicità è ai massimi livelli. Unkar si commuove e le lacrime scendono sul suo viso e gli fa gli auguri mentre dall'altra parte Ilmaz sta ancora pregando che tutto vada bene anche per il suo bambino. Poi esce un'infermiera correndo porta un minuscolo fagottino di corsa verso l'incubatrice con pochissime speranze di vita. Ilmaz e Fecheli sono distrutti. Mujigan e Ilmaz devono fronteggiare una situazione che è molto difficile. Infatti, il loro mondo sembra cadere totalmente a pezzi. La caia si avvicina a sua moglie ma lei lo insulta e cerca di allontanarlo gridandogli che quando lei aveva bisogno di lui lui non c'era. Le grida io avevo bisogno e tu non c'eri. Lei si oppone sbraitando e lo rimprovera non eri qui al momento giusto. Avevo bisogno di te ma tu eri con Zuleila. A quel punto Ilmaz si sente fortemente in colpa e non sa più cosa dire a Mujigan che non lo vuole nemmeno lasciare avvicinare a lei per confortarla e non gli permette nemmeno di decidere quale sarà il nome del loro bambino e decide così di dare in carico a Fecheli di decidere lui il nome del piccolino. E Fecheli decide di chiamarlo Kerem Ali. Nel frattempo in villa si è diffusa la bella notizia grazie a Sagné che era detta a tutti i dipendenti e stanno tutti attendendo l'arrivo di Demir per festeggiare con lui che ha promesso a tutti che regalerà una moneta d'oro in onore della nuova nata in famiglia. Yaman Demir rientra in villa dopo diverse ore ed è felicissimo ed avvisa tutti i dipendenti che appena Zuleila ritornerà a casa con la bimba lui organizzerà una bellissima festa in cui presenterà a tutti la bambina orgogliosissimo di essere papà ed aggiunge anche che la piccola principessa è molto bella ed è una bimba tranquilla la situazione di musica in ospedale però è completamente diversa e complicata ma la donna riesce a trovare una forza dentro che le permette di alzarsi ed andare a vedere il suo piccolino dentro l'incubatrice in terapia intensiva è minuscolo e proprio in quell'occasione incontra Zuleila che le offre tutto il suo sostegno in un momento così difficile della sua vita ma a quelle parole Mujigan reagisce con rabbia l'evento provoca una reazione a catena e parole su parole si arriva ad una discussione accesa proprio nella sala d'attesa dell'ospedale dove tutti possono notare come Mujigan non sia molto tranquilla ed anzi poco instabile e infatti non riuscirà a conservare il controllo su di sé e si lascerà prendere dalla situazione senza prestare attenzione a nessuno degli interlocutori presenti che cercheranno tutti in ogni modo di calmarla dopodiché vedremo che la situazione si sposterà avanti di circa una settimana dove vedremo che Zuleila torna a casa in villa con la piccola Leila e da quel punto Uncar e Demire in suo onore organizzano un grande evento dove tutta la comunità della zona sarà incitata a partecipare ma purtroppo lo stesso clima di gioia non si vedrà nella casa accanto di Ilmaz e Mujigan che dopo il parto è profondamente cambiata e si è lasciata prendere da una profonda e angosciante depressione per oggi le anticipazioni finiscono qui ma se i miei contenuti ti piacciono ricorda di lasciarmi un like fammelo sapere magari anche con un commento ed iscriviti al canale per vedere il prossimo video e Grazie a tutti